Il legame tra amici rimane aperto, nel senso che l'amico ha il diritto di acquisire nuovi amici. Invece la unione tra amanti viene custodita chiusa e non è permesso che un altro amante vi penetri. Il carattere aperto dell'amicizia fa sì che la tenerezza sia offerta liberamente agli altri come esperienza di vita liberale e democratica. In realtà, l'amicizia non è assolutamente un legame tra persone, ma soprattutto un stato d'animo e un anelito amoroso dell'esistere, un nobile splendore che illumina tutto il creato, e in questo senso si tratta di un vigoroso stato ecologico dell'essere. La sua sensibilità davanti al mistero del mondo e al prodigio continuamente rinnovato della creazione attinge alle sue fresche profondità l'affetto, la tenerezza per le creature, per tutto ciò che pende dalle parole di Dio e sta sospesso in aria insieme all'uomo, nell'erimmatico caos, dalle cui tenevre ci salva l'amore. E la tenerezza, che costituisce la fragranza dell'amore, si manifesta come profumo nei gesti, nelle parole, in un atteggiamento che comincia dalle profondità indefinite dell'essere e che avvolge, prima di tutto, Dio stesso. Questa tenerezza, che nasce dalla comprensione della sacralità dell'uomo, significa percezione della carica divina quale parte fondamentale dell'uomo stesso e che lo fa apparire come l'unico essere del creato, capace di trascendere il tempo e il mondo, per una ineffabile lettura del mondo e dell'assistenza dell'uomo in esso. Procede verso una riconciliazione con Dio, verso la conclusione luminosa di un'ostilità fatta di domande, di incertezze, di ricerche, di contraddizioni, di un insistente busare la porta del mistero, per riuscire a trovare, assai raramente a dir la verità, un amore che, se vene non abbia niente a che fare con l'amore degli uomini, si esprime teneramente, oltre al logico cooperare insieme a Dio, nel conseguimento della somiglianza con Lui, cioè, della santità. E allora, per una straordinaria disponibilità da parte dell'uomo, dalle viscere e delle sistere, estilla una strana teneressa riconciliativa di grande importanza. Così il mortale e immortale potrà dire senza alcun timore all'Altissimo, sia fatta la Tua volontà. Ma come può un uomo provare tenerezza per un altro uomo, per tutte le creature, per la natura della terra e dei cieli, se non è in grado di sentire tenerezza per se stesso? Questo accadrà quando l'uomo sarà finalmente in grado di vedere se stesso, di porsi dinanzi a se stesso e a parlare non monologando ma conversando. Non intendo dire solo che deve scoprire la propria coscienza e svegliarla e mantenerla in lucida veglia perché entrambi possano convivere armonicamente, collaborare, giudicare ed essere giudicati. Voglio dire che deve sentire bisogno d'amore e di tenerezza anche per il proprio corpo. Se giungerà alla fine della vita senza aver fruito di una piena consapevolezza di sé e stesso, non sarà esistito come uomo e non avrà nemmeno vissuto la lieta e nel contempo dolorosa incertezza dell'esistere. Se poi consegnerà il corpo alla terra, senza aver mai conversato amichevolmente con esso, mentre il suo corpo sperava, invece, di essere sfiorato teneramente, di sentire la suavità di una carezza che lei facesse comprendere nel modo più totale ed essere uomo proprio grazie al corpo. Non sarà riuscito a elevarsi e a raggiungere la pienezza. Il corpo ha bisogno di tenerezza quando desidera, quando ha sete e fame, quando è stanco, quando si innamora e soprattutto quando sente dolore. Gioisce quando riceve una carezza. Si sente novilitato quando comprende il mistero che è e che lo racchiude. Infatti Dio non lo creò con una sua sola parola, ma con le sue stese mani, in un silenzio operoso e visionario, la cosa più santa di tutto il creato, l'unica creatura plasmata dalla sua mano e nella sua quale soffiò il suo alito. Secondo questo concetto, dunque, il nostro corpo è un segno di Dio. Un più acuto bisogno di tenerezza sente questo corpo unico, corpo segno, corpo terra, quando rimane solo, perché la solitudine non la sente solo il cuore, non la sente solo l'anima, ma anche il corpo. E non solo la solitudine è in amore, il corpo la sente in maniera ancora più intensa, quando il tempo lo divora, quando viene distrutto dalle malattie e quando soffre. Allora, e specialmente allora, dobbiamo parlargli con tenerezza, far sì, che ciò che è innato nella nostra esistenza, diventi gloria di tenerezza, confessione discreta, comprensione e partecipazione al mistero di tutta la sua natura. Il corpo, attratto dalla gravità della terra, alla fine le si abbandona. Il modo in cui le si abbandona fa parte del procedimento della morte che, quando non è violenta, costituisce la civilina conseguenza della malattia e della vecchiaia, ma anche quando l'uomo si abbandona completamente al proprio destino, tutti quelli che, nel corso della vita, lo amarono veramente, non lo abbandonano. Lo accompagnano con la tenerezza che emana come intenso turbamento, quando coloro che, addormentatasi, vengono chiusi nella tomba seguiti dall'amicizia, dall'amore, dall'affetto dei parenti e di amici. In tali circostanze, anche l'amore viene espresso con il linguaggio della tenerezza. Donne vestite di nero accaressano il marmo che nasconde il corpo dell'amato, accaressano i fiori che ne adornano la tomba, e a casa, la sera, quando si fa impetuosa la vampa dei ricordi e sfiorano le fotografie dei difunti, nella luce avvasata tirano fuori gli oggetti a cui essi erano affessionati e chiusarono, un pettinino, un termometro. Amici che vorrebbero vedere di nuovo occupati i posti rimasti vuoti, ritornano nei luoghi dove conovero gli amici morti, dove cenarono insieme, dove insieme cercarono l'amore. Casi, circostanze, momenti, tempo che ritorna alla memoria, solo in maniera discontinua, relichiario segreto della vita che fu, perturbare con i suoi intensi profumi tutta l'assistenza, l'assistenza che torna teneramente, per irrorare ogni cosa con la frescura del passato, e specialmente quando la note della vita si appressa. Per i vivi, il ricordo dei morti è un sostegno nella solitudine, nel totale ovlio e nella perdita di quanti si sono addormentati. E con la memoria, con il ricordo, con la reminiscenza, con il richiamo alla vita, non rivive soltanto un antico amore, o un'amicizia ad altri tempi, ma accade qualcosa di diverso, più delicato, più immateriale. Nasce la tenerezza. Essa avviene e tocca di nuovo ogni cosa. Fa emergere occulte essenze di vita, diamanti, ornamenti di una vita smarrita che si ritrova. Tesoro inatteso che, per essere illuminato, ha bisogno che prima si sia verificata una rottura, una separazione, una morte. Appare allora il sole delizioso della tenerezza, sole nostalgico che, quale incesante e discreta frescura della notte, si muove senza strepito, inumidisce tutto ciò che nel corso dell'esistenza si era disseccato. Improvvisamente, espuntano estraordinari germogli, tenere foglie, un'altra interpretazione della vita invisibile, l'età della tenerezza, vita nella vita, vita sotto e dietro la vita, vita un tempo più galiarda, più degna ad essere vissuta della vita stessa, quella grande, immensa. Genitori e figli, figli e genitori, espossi sotto il gioco ad un amore infranto, amicizie, danni difficili e di tempi luminosi. Tutte queste inestimabili, sacre situazioni esistenziali che tesano la rete del mondo per ognuno di noi, un giorno, si trasformano in nostalgia, gli agiscono con la tenerezza dei ricordi, quando la stessa natura dei sensi li rende confusi, indistinti. È allora che l'uomo, fatto se introspettivo, dialoga con se stesso, viene vinto e inondato dal dolore del ritorno, la nostalgia. Ritorna con dolore, soffre ritornando, ma si tratta di un dolore sacro, perché rivela un lato del mistero della nostra immortalità, che esistiamo per gli altri persino quando, per la realtà dell'evidenza, gli altri se ne sono andati. Infatti, la tenerezza delle loro anime ci alimenta, ci dà sollievo, ci permette di frequentare altri livelli della vita, regione segrete dove uomini e cose scoprono valore inattesi, alettanti. Anche le cose muoiono, invecchiano e muoiono. Talvolta di morte violenta, il loro uso ne altera il colore e persino la forma. Anche se sono fatte di legno o di marmo, si trasformano al contatto con gli uomini che credono di possederle. Ma anche le cose posseguono gli uomini nella maniera in cui un letto possiede un corpo che gli si abbandona. Le cose posseguono con una fermezza più intensa e più piena, ma poi anche esse se logorano e invecchiano come i nostri corpi. e a volte le cose ci guadagnano in esplendore e bellezza, allo stesso modo in cui le anime vigili esplendono di una bellezza inattesa simile a quella che offusca a un volto invecchiato con la noviltà di antichi metalli preziosi. ma alla fine anche le cose muoiono. Persino la pietra che brillò è sfiorata dal primo raggio del giorno sulle spiaggia. Il tempo distrugge anche essa arrotondandola e conferendole un impercettibile splendore espressione della bellezza ideale. Noi osserviamo piangendo la morte degli uomini invece vediamo morire le cose nelle nostre mani con indifferenza a volte persino senza provare pietà e quando la malinconica riflessione dell'età al tramonto mi vifica il ricordo quando la sensibilità dell'uomo si fa più intensa può accadere che anche la morte delle cose genere tristezza ammesso che in esse si sia raccolta una parte della vita degli uomini allora sentiamo emergere dalle viscere una strana tenerezza per un portapenne per un certo letto per uno specchio che per anni ha riflesso inesorabilmente l'immagine della stessa persona lasciamo un po' della nostra assenza nelle cose le nostre tracce finché qualcosa di indefinito non ci induce alla carezza accaressiamo teneramente le cose stanche imbecchiate di cui ci separiamo quando ormai sono diventate incapaci di servirci con l'amara consapevolezza che insieme a loro dilegua anche un frammento della nostra vita un'importanza maggiore per la nostra vita personale possiedono gli aviti che accarezziamo continuamente senza accorgersene con tenerezza toccandone le pieghe come la nostra misteriosa biancheria intima e il sopravito che indossiamo e in cui si nascondono tanti momenti passati della nostra vita comprendiamo allora anche se non li giustifichiamo coloro che non riescono a separarsi dai loro vecchi aviti li conservano appesi dentro armadi in grossi vauli che talvolta aprono in silenzio quando si fa più intenso il tirannico ricordo del tempo che fu e li toccano teneramente come si trattasse del volto ad un vecchio amico aprono cassetti chiusi da tempo introducono una mano tra camicie logore calzini costumi da bagno fasoletti e guanti facendo una lunga silenziosa carezza come se la mano cercasse di riportare i giorni inesorabilmente trascorsi nella legittimità del presente ma nulla torna indietro solo la tenerezza riesce a disettare con la sua vivificante acqua di fonte il ricordo mentre la memoria alimenta la tenerezza e intanto tutto e tutti tacciano tacciano e simultaneamente parlano hanno modi espressivi propri un linguaggio che affila e infiamma l'uomo intimamente basta che egli viva in maniera consapevole il proprio stato e che non sia distaccato dalle cose perché in tal caso le considererebbe serve di poco conto da gettare impietosamente nelle immondizie appena invecchiano lo stesso accade quando abbandona per strada gli animali domestici innocenti e indifesi quelli stessi animali che forse una volta avevano suscitato tenerezza in lui accettando nelle carezze si vedono spesso vagare per le strade abbandonati a volte si nascondono e spaventati per la ferocia gratuita delle persone e che dire delle cose vecchie in cui capita di imbattersi e specialmente nelle notti di fine settimana agli angoli delle strade e nei cortili degli edifici se parlassero come gli uomini quante cose potrebbero raccontare sulla tenerezza che offrirono sui servizi che resero sulla loro solersia sulla loro dedizione per non parlare della tenerezza che ricevetero prima che l'aridità di cuore di certa gente le facesse finire per strada abbandonate ed esposte vittime di una sorte spietata d'improvviso soprafatto da una malinconia inespiegabile fiumana sotterranea dell'esistenza sampillata da una fonte invisibile ti fermi un istante davanti ai libri che per anni rimbigorirono il tuo spirito e alimentarono la tua anima creature dalla dignità incomparabile cavalieri di un'altra patria rimpianta dell'essere e stanno ai loro posti sopra uno scaffale eretti silenziosi quegli stessi libri che un tempo scatenarono tempeste dentro di te e che misero a nudo il corpo segreto della tua anima folgorando la tua mente e schiudendole d'un tratto cieli inopinati quanti anni trascorsi da allora quanti estendi una mano e ne prendi uno lo apri come un corpo d'amore come una casa agremita di ricordi pronti a esplodere oh sì lo ricordi bene d'improvviso tutto ritorna con una limpidezza cristallina su quelle pagine immortali sulla carta ingiallita ma piena di vita su cui lo scrittore in preda all'immortalità lasciò le sue sacre tracce non ce la fai più a restare in piedi ti siedi il libro aperto davanti a te è come il corpo nudo di un'anticamante dimenticata che ritrovi fiorente ed esuberante nel prodigio delle parole e lo accarezzi con una tenerezza nostalgica che ti fa venire un nodo alla gola per tutta l'esistenza i libri furono come continuo estilicidio carbone ardenti fiori perenni baci appassionati avracci deliranti esfoliandone le pagine li accaressi e rievochi ora che l'amore rivelatore della lingua maturato con gli anni ha lasciato nel tuo spirito un novele riverbero carezza del tempo convivenza con il passato che nei libri diventa un presente inconfutabile e che ti induce a vivere in maniera diversa con parole essenze con ciò che è invisibile o lo è diventato con la quintessenza sempre viva del mondo i libri gli scrittori insegnamenti che ti trasformarono in uomo testi del monte Tavor e scrittori sismografi l'evento più misterioso del mondo ieri l'altro aprendo un cassetto sono cadute sul pavimento alcune vecchie lettere voci deleguate alcune per sempre altre temporaneamente situazioni inenarrabili nella fisicità scura definitiva tirannica del passato che mausoleo appassionante e poi persone amate che si allontanarono alcune nel tempo altre nello spazio persone consumatesi nella vita affannosa e i luci e i luci che io ho lasciato sulla carta dalle parole che costituiscono la lingua tutti quei nomi quanta fedeltà quanta amarezza quanto tempo aprì aprì alcune buste distese con affetto alcune carte e le parole che vi erano scritte si rinfransero scintillando sicure più sicure delle firme in calce alle lettere più autentiche del nome del mittente da quelle poche lettere conservate e dimenticate emanava una tenerezza possata un profumo imbecchiato eppure vivo le frasi che vi erano registrate componevano qualcosa di simile a una musica impercettibile leggendo quelle lettere gli ritornarono alla mente molte cose e ripensò a com'era quando le ricevete tanto tempo prima era certamente un altro esprofondato nella propria oscura quotidianità in attesa che si illuminasse l'uomo ormai dileguato evocato da quelle lettere ingiallite è strano era lo stesso profumo di tenerezza che lo inondava ogni volta che toccava o sfogliava il nuovo testamento degli anni della sua adolescenza certe vecchie edizione di Omero di Macri Giannis di Solomos di Papa Diamandis o un piccolo libro di Contoglou di quell'estesa epoca in quei tempi lontani le parole stampate sulla carta non ancora divenute irrevoanti possedevano un vigore fermo integro generoso libri palpitanti di vita inesauribile dal tempo denso fecondo terra fianchi in cui egli seminava il suo futuro e lo vedeva fiorire e fruttificare in tenera affinità con tutte le cose e con i suoi libri e ora sul finire dell'estate tutti quei libri antichi immortali gli si avvicinavano e risplendevano selva agrimita di mormorii sotto un'improvvisa pioggia calda facendo del mondo e della vita un prodigio straordinario con le loro foglie le gemme delle parole i fiori celestiali i frutti del dolore umano nelle loro frasi i piaceri e le amarese espressi per mezzo della lingua estasi terrene e visioni immateriali in avvisamenti nella tremenda notte del mistero dell'esistenza libri addensamento d'anime tutte cose nate sotto la pioggia improvvisa e luminosa del crepuscolo della vita di nuovo belle e vere come mai intense come benefici e ora inondate da una tenerezza palpitante d'improvviso l'altissimo le riconciliava tutte quelle cose e dava loro un senso sotto quella pioggia venedetta dei ricordi che donava di nuovo vita a quelle antiche letture che splendore sul finire dell'estate del corpo quando l'amarezza vissuta rivela tutto il proprio senso che esaltazione per tutte le cose che avevi vissuto così intensamente con quei vecchi libri sotto braccio e ora con il tuo passato messo a nudo risplendi tutto di una bellezza inegualabile sotto luce che si abbassano sempre più mentre si vedono angeli e sfiorarte l'anima con tenerezza talvolta nei momenti più critici della vita lo scrittore sente un'estrana tenerezza per la sua lingua per le parole di cui si impossessò e che divennero carne della sua carne segreta per anni era stato affascinato dal potere rivelatore delle parole dalla drastica efficacia della lingua che nelle sue mani era divenuta più viva più intensa più tangibile e più integra del corpo umano un giorno l'aveva conquistato allo stesso modo in cui un uomo assediatore tenace e ingegnoso conquista una donna difficile ed enigmatica ma che proprio per questo gli appare più bella e più misteriosa con l'intenzione di possederla anima e corpo così ora si sentiva inondare da una irrefrenabile tenerezza per la propria lingua con la mente ne sfiorava le parole che carezzava su una spalla e sulle schiena come farebbe un innamorato con la donna amata tutto nella lingua gli sembrava degno di ammirazione e perfetto allora si rese conto di aver vissuto più a lungo con le parole che con gli uomini e che niente aveva richiesto tanta fatica per essere dominato quanto quella lingua che risplendeva nel frimmamento dei mortali già al tempo in cui l'immortale Omero la rese legittima per annunciare la lieta novella dell'incarnazione del verbo di Dio è la stessa lingua che da allora insegna la tenerezza pensò alla usanza ormai dimenticata ma consueta ai tempi di Omero di toccare qualcuno sulle spalle in segno di amicizia e li parbe che da quello fosse un gesto di tenerezza che rinsaldava i rapporti umani e che dire dai santi Vangeli che testimoniano un altro genere di tenerezza quella di Gesù per la donna adultera per Pietro uomo di poca fede per la gentile portatrice di profume che pianse pensando che l'avevano privata del suo Signore ma forse la quintessenza di tutta la tenerezza è costituita dal grido appassionato lanciato da Elettra nel momento in cui riconobbe Oreste oh amatissima luce e da come il cieco edipo parlò a sua figlia che gli stava accanto distratta prodigi della tenerezza resi immortali dalla lingua dei greci nelle sacre vette della vita degli uomini si alzò e si avvicinò alla silenziosa biblioteca fece scivolare un dito da uno scaffale all'altro quante migliaia di ore della sua vita trascorse su quei libri in un susseguirsi di esperienze di comprensioni di illuminazioni fino a riuscire a vedere se stesso nudo conoscere se stesso riconciliarsi col mistero celato nel profondo di sé ed ad avere la consapevolezza di esistere incerto e piccolo in un mondo smisuratamente grande rievocò Liar e il suo tenero delirio davanti al corpo morto di Cordelia rievocò il crudele signore gigante dei promessi sposi di Manzoni e si sentì l'anima sollevata dal tenero dolore altrui toccando i libri di Dottoyevsky fu per baso dalla tenerezza per la comprensione metafisica di Alessa di Dmitry Karamazov di Miskin di Sonja di Delito e Castigo tutte le tenere cose che grazie a essi aveva vaccheggiato e vissuto talvolta in un supersostanziale annientamento di tutta la sua esistenza il corpo fervilmente ricurbo sul libro per partecipare insieme all'anima palpitante e al dolore delle parole erano prestaci divini che accettava come aneliti di martirio e di santità perché la tenerezza è il profumo dell'amore così perfino gli scrittori metafisicamente ciechi come Pruss con le intuisioni inviate loro da Dio riescono ad aprire nella miserabile e incomprensibile compattezza del mondo un tunnel luminoso di tenerezza e a creare un personaggio capace di opporre resistenza come la nonna nella ricerca ad esempio e credeva forse stata proprio l'assenza di tenerezza in Kafka e in Joyce ad annunciare l'advento del feroce ventesimo secolo se l'uomo non vivesse la propria mortalità forse non riuscireva a vivere e a manifestare la tenerezza perché un sentimento così delicato più spontaneo più pieno nella donna e forse più appropriato alla sua natura non viene prodotto dall'intensa gioia e dal calore dell'ottimismo invece scaturisce discretamente dalla dura prietra nascosta nella parte più riposta dell'uomo come nobile sorgente di penombre interiori come malinconia riflessiva frutto di un strano equilibrio tra le sensi operanti dentro di lui preoccuparsi per gli altri per la persona amata per i familiari per il prossimo è una saborra metafisica la tenerezza è un dono perfetto al margine della inesorabile corporeità degli uomini in questa vita al di là delle indiscussi coordinate dell'esistere quale nascita amore e morte trascende anche l'affetto che presuppone un rapporto tra una persona potente e una debole e quando la tenerezza trascende anche le leggi dell'utilità del profitto del necessario e con materia immateriale crea poesia produce allora uno straordinario affinamento dell'essere la tenerezza è un poema e tutti gli uomini ricevono da Dio il dono di poterlo creare se il terribile ardore delle cose del mondo non inaridisse le loro esistenze ma così come il mondo può sopravvivere senza il poema della lingua senza però essere più mondo ornamento anche l'uomo può vivere senza la tenerezza ma senza essere uomo autentico circonfuso dall'aura luminosa della novità dell'essere creata ed effusa dalla tenerezza sotto questo aspetto la comparsa della tenerezza nella vita dei mortali costituisce il suggello dei valori della vera civiltà dell'essere della cultura del cuore questo secolo feroce che volge al tramonto ha sì inaridito i cuori con l'asceleratesa collettiva e individuale ma ha anche disodato un terreno segreto dove la tenerezza potrebbe germogliare e mentre questo secolo memorabile tramonta l'epoca violenta e mostruosa da esso prodotta si ingigantisce e si insinua nel secolo a venire con impeto e spaventoso devastando le anime alterando il clima temperato che era garanzia da un'armonica convivenza tra gli uomini le anime hanno fame e sete di tenerezza e di cuori disinteressati insieme alla terra e al cielo anche l'uomo profondo viene devastato inaridito semplificato limitato alle funzioni assolutamente vitali e affrettate di un sommario procedimento animale di esistere o di non esistere così la vita ha scesa di essere veramente vita e la morte smarrisce la suggestione della sua prospettiva misteriosa e misterica celebrante e officiante quest'epoca feroce costringe l'uomo a vivere una vita neutra in cui tutti gli elementi vitali che stanno alla base dell'esistere consapevolmente giudicate superflui vengono limitati recisi e alla fine abrogati i rami i segreti del cuore sui quali fioriva improvvisamente la tenerezza quale preziosa gloria superflua si atrofissano seccano l'uomo l'uomo perde misura sempre maggiore la sua poliedricità e gli attributi più significativi della sua identità gettato nella vita utile e assetato di tenerezza tutto il creato è assetato di tenerezza Dio stesso ne è assetato di tenerezza Grazie a tutti. Grazie a tutti.